L'esigenza di ridurre e controllare l'inquinamento è oramai un'opinione condivisa e anche se il passaggio all'uso di veicoli elettrici potrebbe avere un impatto importante sul cambiamento climatico, questo processo non sarà immediato e richiederà un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili. Con l'esplosione delle vendite di automobili, aumentato di 25 volte in 15 anni, il parco dei veicoli cinesi contora più di 185 milioni di automobili, diventando la seconda fonte di inquinamento da particelle fino in Cina. Oggi le 10 città più inquinate hanno livelli di particelle sottili da 10 a 15 volte superiori alla soia raccomandata dall'OMS. Lo sviluppo di veicoli cinesi insieme alle strategie rinnovabili è un obiettivo principale della strategia delle autorità cinesi per ridurre l'inquinamento e ciò che è vero per la Cina lo è anche per il resto del mondo, seppur in misura minore. Questo è giustamente il primo asse di investimento che raccomandiamo. Le società tecnologiche che migliorano lo stoccaggio di elettricità, soprattutto in enormi batterie di rete. Ma riprendiamo il caso della Cina. Se la Cina passasse domani al 100% di veicoli elettrici, le sue emissioni di CO2 raddoppierebbero, dato che il 60% dell'elettricità del paese è attualmente prodotta da centrali elettriche alimentate a carbone. La Cina ha anche fissato obiettivi ambiziosi per l'adozione di fonti di energia rinnovabili. La fornitura di energia elettrica rinnovabile dipende dal vento o dai raggi del sole ed entrambi le fonti per loro natura sono inaffidabili e incostanti sia per il carico di base, sia per l'inevitabile aumento della domanda. Lo sviluppo di batterie di grandi dimensioni in grado di immagazzinare l'energia rinnovabile e rilasciarla secondo le necessità risolverebbe questo problema. Per due semplici motivi, il primo è che la batteria e la sua autonomia sono i punti critici di ogni veicolo elettrico. La seconda è che alcuni materiali come il cobalto o la grafite sono oggi essenziali per costruire una batteria affidabile e duratura, ma la produzione di questi materiali è limitata o a rischio, sia per ragioni fisiche che politiche. A titolo illustrativo, il 50% della fornitura di cobalto proviene dalla Repubblica Democratica del Congo. L'aumento di oltre il triplo del prezzo nell'ultimo anno riflette non solo la crescita della domanda dei veicoli elettrici, ma anche questi vincoli sul lato dell'offerta. E non è un caso che il mercato londinesio dei future sui metalli preveda di avviare contratti per i metalli usati nelle batterie nei prossimi 18 mesi. Questo dimostra l'interesse sia dei produttori e potenzialmente anche degli investitori. Per quanto riguarda le case automobilistiche, probabilmente non sono le migliori posizionate sulla catena del valore per trarre vantaggio dal maggior volume di veicoli elettrici, poiché ciò richiede enormi investimenti in ricerca e sviluppo. Inoltre, le vendite di veicoli elettrici dovrebbero cannibalizzare altri tipi di motori. In particolare, il titolo Tesla soffre in questo momento sul lato obbligazionario a causa di una situazione finanziaria non semplice e sul lato azionario in vista di un eventuale aumento di capitale. Per rispondere a questa domanda bisogna rifarsi a un altro esempio, ma questa volta negli Stati Uniti. Gli americani che usano la macchina per andare al lavoro percorrono in media 40 km al giorno. Su questa distanza, l'elettricità utilizzata per ricaricare un veicolo elettrico equivale all'intero fabbisogno giornaliero di una famiglia media americana. Si tratta di una quantità enorme. Se tutte le famiglie statunitensi convertissero le loro auto in veicoli elettrici, sarebbe necessario più del doppio della capacità attuale di reti elettriche. In particolare, la California è lo stato in cui i veicoli elettrici sono i più adottati e rappresentano il 6,6% del parco automobili. Ma è anche lo stato che conosce, di conseguenza, la maggior parte delle interruzioni di corrente. Una media di 1,5 blackout al giorno. Immaginate cosa succederà quando la quota di veicoli elettrici aumenterà. Per questo motivo, gli analisti e le infrastrutture stanno già anticipando quasi 900 miliardi di dollari di investimenti tra il 2010 e il 2030. Si tratta di un enorme mercato. Questo spiega perché i produttori di apparecchiature elettriche sono il terzo asse di investimento che consigliamo per beneficiare della crescita dei veicoli elettrici. Per esporsi alle sfide della rivoluzione elettrica, i nostri analisti hanno individuato tre assi di investimento. I produttori di batterie e i fornitori di tecnologie per i veicoli elettrici. I fornitori di materie prime necessarie per la creazione di batterie. L'aggiornamento delle infrastrutture per la distribuzione di elettricità. Per chi fosse interessato alla tematica di investimento, il team di Exander Rivatis Milano, in collaborazione con il team di strutturazione, ha ideato e lanciato sul mercato italiano una serie di soluzioni di investimento.